Ok ragazzi siamo pronti Ok ragazzi siamo pronti Ok ragazzi siamo pronti Ok ragazzi siamo pronti Ok ragazzi Vai vai Bene così Un po' di umidità non guasta Ma che figata Grazie Porca troia No ho preso il terreno col pedale Ok 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 Non c'è l'inghiale, guarda di qua, alla mante. Andiamo due minuti al baristoro, prendiamo un caffè e mangiamo una barretta, una barretta non una birretta, qui ti riprendi un po' le gambe e poi riprendiamo. Passiamo a una barretta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.